Ottenere un voucher da 5.000 euro da investire in pubblicità, comunicazione e strategie di marketing. È questa l'opportunità che dal 4 agosto il Comune di Pesaro ha messo a disposizione delle imprese locali pubblicando un bando che mostra l'elenco di imprese capaci di fornire servizi innovativi e che ora attende fino ai primi di settembre le aziende che potranno beneficiare del voucher presentando progetti da sottoporre alla valutazione. L'ammontare complessivo delle risorse disponibili è di 110.000 euro e sono tutte provenienti da fondi europei ed erogate a fondo perduto. Si tratta dunque di una preziosa opportunità come ci spiega l'assessore comunale Francesca Frenquellucci. In questi mesi abbiamo lavorato con l'ufficio sviluppo e opportunità dove abbiamo pensato di aiutare le imprese del nostro territorio. Un Comune che mette a disposizione un bando e quindi dare dei voucher, quindi concretamente aiutare le imprese del nostro territorio non era mai accaduto. Quindi anche di questo sono molto soddisfatta e devo dire che anche l'ufficio ha lavorato tantissimo, vanno i miei complimenti, ma anche l'aiuto delle associazioni di categorie è stato fondamentale perché abbiamo voluto pensare di aiutare le imprese soprattutto per quanto riguarda la promozione, la promozione della propria impresa, quindi fare marketing social e aiutare tutto il mondo della comunicazione che è fondamentale. Devono presentare un progetto insieme alle varie agenzie di comunicazione che decidono e poi ci sarà una scelta fatta da dei tecnici per chi ha vinto il bando. Ricordo che sono 5.000 euro per poter promuovere l'attività del proprio territorio.